Guzzi c'è prova Eh non me la posso perdere questa Bravo Corsi bravo 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 dai 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 va bene va bene E sembra che la sforzate te se stai seduto sopra che fiatone c'hai Si si ancora dai forza prendetelo per i portapacchi io devo fare il reporter Guardate che gruppo Guardate che gruppo Guardate che gruppo Oh se c'ero io Bravo Grazie 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 Grazie